ciao a tutti ragazzi ciao a tutti ben ritrovato al vostro Alex Rossi siamo qui ritornati nel video post partita di roma belle percuse in roma finita ragazzi per 2 a 2 roma che esce ma a testa alta siamo usciti a testa alta ragazzi contro un grande lever cushion che c'è un bucio di culo sicuramente adesso starete tutti a godè perché giustamente sapete fare solo quello solo godere sapete fare solo quello solo godere ragazzi sapete soltanto godere delle disgrazie altrui dove comunque voi non vi vedo neanche in semifinale dove siete laziali milanisti dove siete dove siete che state godendo dove siete laziali milanisti dove siete laziali milanisti dove cazzo siete dove siete laziali milanisti che state soltanto così tanto alla roma che non è passata eh dove siete la roma se l'è giocata a testa alta contro una squadra forte ma che ha avuto un bucio di culo ragazzi ma un bucio di culo proprio spondato proprio rotto c'è un culo rotto porca puttana ragazzi lì mancini va a fare l'autocoll ma non me la prendo neanche con mancini perché adesso tutti voi state pensando eh adesso i milanisti se la prendono con mancini che cazzo poveri ragazzi cioè l'errore che ha fatto svilare perché se svilare restava in porta non usciva o magari la si respingeva col pugno cioè può darsi che comunque a quest'ora siamo i tempi supplementari ma che riusciamo lo stesso perché io l'ho detto raga non ci credevo non ci credevo non ci credevo perché questi sofforti non perdono se è l'anno delle vercuse in qualche modo devono vincere devono vincere devono vincere ma non c'è la miseria io io sono fiero di fiero di ti fare questa maglia fiero di ti fare questi colori fiero di ti fare la S Roma la prima squadra della capitale prima squadra della capitale fiero e orgoglioso perché oggi sono entrati in campo e hanno onorato il nome della Roma hanno onorato la maglia hanno onorato noi tifosi no quelle alte mezze seghe dei milanisti anzi dei giocatori del Milan e dei giocatori della Lazio che non hanno onorato un cazzo a ritorno il Milan ha fatto una figura di merda a ritorno e almeno noi ce la siamo lottata fino all'ultimo fino all'ultimo fino all'ultimo e io vi dico la Roma il prossimo anno se continua come sta facendo con De Rossi potrebbe fare un bel campionato non vincere lo scudetto ma il futuro potrebbe essere erosio si spera si spera che dire questa partita ragazzi mi sono piaciuti tutti tranne che mi aspetto qualcosina in più da Zmun e un leggermente in più qualcosina da Cristante ma vi resto ragazzi una grande Roma che purtroppo esce a testa alta e un bel Angelino che oggi mi è piaciuto cioè mi sono piaciuto tutti ragazzi io non trovo un peggioro in Dica magico magico in Dica poi raga ma veramente ora ci siamo attaccati ho letto veramente ai cambi che ha fatto De Rossi perché che cazzo c'è veramente ora ci attacchiamo ai cambi che magari non ha fatto entrare in Bala raga domenica c'è una guerra lì si decide il nostro destino se siamo dentro o fuori dalla Champions League il prossimo anno quella sì mi faceva piacere andare in finale per l'amor di Dio ma per noi ritornare in Champions è ossigeno è ossigeno ci servono i soldi della Champions raga peccato mamma mia non usciranno i detrattori di Murigno ma Murigno l'avrebbe vinta no ragazzi meglio chiudere questo video perché se no è peggio è peggio ragazzi è peggio io sono sempre orgoglioso di ti fare questi colori sempre forza Roma sempre forza Roma sempre e comunque forza Roma mamma mia ragazzi mamma mia se Dio esisteva porca puttana non poteva diceva vabbè mi hanno dato due rigori netti netti non rompete i coglioni due rigori netti 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 Dio non ha voluto non è della Roma oggi e siamo usciti ragazzi paghiamo il cosbagliato di Abraman andato paghiamo la cazzata di Karzop che abbia fatto all'andata vedi un po' come che abbia fatto all'andata